Il Soverato si appresta ad affrontare per la non aggiornata della Samsung Galaxy Volley Cup 2 una trasferta insidiosa contro il Club Italia, una formazione reduce da tre sconfitte consecutive che però sin qui si è ben comportata, logicamente, è il laboratorio della Federazione Italiana Pallavolo tantissimi elementi giovani, però una partita per voi probante alla luce anche della vittoria sofferta di domenica scorsa, coach Barbieri Ecco, loro come sappiamo, abbiamo già detto più volte, è una squadra giovane con una potenzialità enorme perché soprattutto in prima linea sono veramente forti con degli attaccanti pesanti, con grande fisicità hanno fatto un avvio di campionato ottimo adesso queste due settimane hanno avuto un calo, ma non solo loro con diverse squadre che non hanno ancora riposato hanno avuto un calo sappiamo che dobbiamo essere veramente attenti perché non dobbiamo incappare nel loro muro che come abbiamo già detto è molto molto pesante, molto molto fisico però abbiamo visto che carattere ne abbiamo abbiamo visto in settimana, nelle partite perciò siamo relativamente tranquilli nel modo giusto per poter affrontare questa partita e provare a prendere punti Ecco, questa partita assume un'importanza maggiore anche dal punto di vista della classifica perché si gioca sabato in anticipo alle ore 16 questo potrebbe anche risultare tra virgolette un vantaggio al risultato ottenuto perché metterebbe eventuale pressione domenica alle altre concorrenti quindi è importante far risultato anche per questo motivo in chiave classifica Sì, sicuramente, sicuramente, però penso che la pressione sia tanta a prescindere perché lo vediamo di domenica in domenica e ci sono dei risultati che non sono sorprendenti fanno parte di una situazione che si è venuta a creare molte partite un buon livello, perciò vediamo dei risultati altalinanti ecco, chiamiamoli così e non a sorpresa Soverato che sin qui di fatto ha perso solo a Cuneo e ha vinto tutte le partite Club Italia, dicevamo prima, reduce da tre sconfitte consecutive sì, ma è vero anche che nelle ultime tre partite ha affrontato comunque delle squadre di un certo calibro No, loro sono, l'abbiamo già detto abbiamo già detto le loro qualità muro, le loro qualità in attacco battono molto bene squadra che secondo me può veramente battere chiunque è innegabile che la giovane età qualche volta magari ti fa commettere qualche errore di inesperienza ecco, l'unica cosa che ancora magari manca ad alcune di queste ragazze è l'esperienza, il campo ma tutto il resto ce l'hanno, perciò non è sicuramente facile e molti hanno già fatto le spese contro questa squadra Alla luce dei risultati che sta ottenendo la squadra probabilmente possiamo dire che la sosta, il proprio turno di sosta al Soverato è capitato al momento giusto adesso state lavorando con la settimana tipo quindi state preparando al meglio la sfida con il Club Italia così come è potuto succedere la settimana scorsa per ospitare poi la compagine di Montecchio logicamente lavorare durante tutta la settimana per preparare la gara per giunta con una formazione quasi del tutto nuova è sicuramente un aspetto importante anche per lo staff tecnico perché sappiamo che quando c'è il turno infrasettimanale c'è poco tempo anche per allenare e ci si deve dedicare più a preparare la gara No, no, giustissimo quello che hai detto perché la pausa non è che ci ha permesso di riposare assolutamente ci ha permesso di lavorare, di lavorare su noi stessi e non sulla squadra che andiamo a incontrare perché altrimenti con un campionato così si tende sempre a lavorare per la domenica cioè studiando l'altra squadra invece queste due settimane poi abbiamo lavorato su di noi, sui nostri errori e questo ci ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità che penso si sia visto domenica grazie 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 a tutti.